Le riforme in Italia stanno procedendo e questo non perché ce lo chiede l'Europa, ma perché, come ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, noi andiamo a Bruxelles a dare e non a chiedere. Anche sul patto di stabilità noi non abbiamo chiesto di sforare il limite del 3% come hanno fatto altri paesi. Vogliamo però capire da Juncker quale sarà l'applicazione concreta della flessibilità prevista nero su bianco dai capi di governo nel documento stilato all'ultimo Consiglio europeo.